Benvenuti e bentornati in questa nuova puntata di Astronomia al Planetario. Oggi continuiamo con una nuova puntata, sempre un nuovo stile. Questa seconda stagione noi cerchiamo di sperimentare. E, appunto, alla base di questa sperimentazione c'è anche andare a vedere chi c'è dietro al planetario, da chi è composto. Benissimo, oggi non vi porto un personaggio qualsiasi, ma bensì il capo, il presidente di questo planetario. Quindi, sigla e poi cominciamo! Allora, allora, con chi siamo oggi a parlare? Oggi siamo con Enrico Artioli, il presidente del CESDA e, attualmente, direttore del Planetario di Modena. Prego! Buongiorno a tutti! Scusate l'emozione, ma è il mio primo podcast, quindi... La prima volta in questo bellissimo setup hai potuto ammirare, mentre stavamo montando tutto, che ovviamente oggi, come potete immaginare, sono problemi tecnici a go-go. Dovevamo registrare un'ora fa, siamo partiti un'ora in ritardo. Quindi, va benissimo. Allora, allora, io partirei subito con l'intervista. Anzi, vuoi dire qualcosa? Vuoi presentarti un attimo? Ah, non so come funziona in questo caso. No, no, tu sei un professore. Sì, insegno tecnologia e elettronica nell'indirizzo di automazione ed elettronica al corno e questo è il mio mestiere. Poi, così, a tempo perso, che praticamente è il 90% del tempo che ho, lo passo al Planetario. E ti volevo chiedere, appunto, perché io sono arrivato qua, a parte che dopo ti racconterò anche come l'ho vissuta, l'entrata al Planetario, io sono arrivato qua e mi è stato presentato il direttore, prima sera, vieni, vieni, vieni con noi a fare una serata osservativa, un attimo, un po' intimorito, e ti volevo chiedere, te, come sei finito al Planetario? Ma non credo che ci basterà il tempo, è una storia lunga. Beh, quando ero all'elementare, il mio maestro, che era molto bravo, però nelle materie umanistiche soprattutto, non tanto in quelle, cioè un po' meno in quelle scientifiche, ci portò a vedere un audiovisivo. E io, guardando l'audiovisivo, capì più da quell'audiovisivo lì che da tutte le spiegazioni che aveva dato lui. Siamo partiti un po' da lontano. Ho visto che non te l'ha sempre niente preparata, questa domanda. E da allora, insomma, ho sempre avuto, come dire, la passione per creare dei luoghi dove i concetti, anche abbastanza complessi della scienza, della tecnica, potessero essere appresi in maniera semplice, in maniera intuitiva, in maniera anche divertendosi, casomai, piuttosto che scritti alla lavagna o studiati su dei libri. E quindi i Science Center, i musei della scienza, sono sempre stati un po' la mia passione. Infatti costringevo la mia famiglia ogni anno andare in vacanza in un posto dove casualmente c'era un museo della scienza. Scelto proprio a caso. Esatto, un centro della scienza, un museo così. Siamo anche rimasti chiusi dentro al Doces Museum una volta, perché poi si erano appassionate anche le mie figlie nella sezione di ottica, erano rimasti dentro. Vabbè, l'ottica, sì, posso immaginare che sia. Sì, era molto bello. Io mi ricordo. L'hai appena scoperta anche tu guardando il kit di fotonica del CNR. Piccola cosa, noi stiamo registrando che siamo proprio stremati, perché oggi è stata una giornata abbastanza lunga. Io ho fatto due orette, un'oretta e mezzo di laboratorio con dei ragazzi delle medie di ottica. Abbiamo parlato di polarizzazione. Poi vi spiego, faremo casomai una puntata, qualcosa, in cui proviamo un attimo a spiegare. Mi viene in mente che, a proposito di musei, la mia esperienza al Muse, non so, Muse di Trento, quello lì, c'è la parte di fisica all'ultimo piano bellissimo. Cioè, ci ho proprio perso una mattinata soltanto su quella, tutti gli esperimenti delle molle, i vortici, una cosa fantastica. Esatto, e questo era un po' il sogno che ho sempre avuto nel cassetto, di provare a realizzare per la nostra città, per il nostro territorio, un centro della scienza. Ci ho provato in vari modi, anche quando ero in Consiglio Comunale. Perché sei stato anche in Consiglio Comunale? Sì, sì. Anche tra gli altri difetti. Tra gli 800 lavori che hai fatto. E lì avevamo poi pensato alle fonderie, c'è stato un bando europeo anche molto bello, è andato avanti così, poi dopo alla fine, insomma, mancanza di risorse o altro, che non so indagare, insomma, non se ne è fatto niente. Però, insomma, il sogno mi era rimasto. Quando poi avevo letto sui giornali che il planetario stava per chiudere, ho detto no, non è possibile. E allora mi sono messo a ristudiare l'astronomia. Perché il rivelo l'avevo già fatto quando avevo fatto la maturità, avevo fatto una tesina sul sistema Copernicane-Tolemaico. Però dopo, con tutti gli anni di ingegneria, così, dottorato in ricerca, si sono persi. Nessuno è perfetto, in ingegneria un pochino. E niente, l'astronomia è rimasta lì latente, carsica. Poi, con questa notizia ferale del rischio chiusura del planetario, mi sono rimesso a studiarla. E poi, secondo me, quando non ci sono i cavalli coronisomari, mi hanno preso dentro. Però, insomma, dopo anche nel planetario vedevo anche l'occasione, l'opportunità di realizzare, anche, insomma, in parte, quel sogno del centro della scienza, che avevo sempre avuto fin da piccolo. Era una lunga la risposta, l'avevo premessa. No, se potete vedere come non mi abbia mica chiesto le domande prima per paura. Io, infatti, le ho mandate. Il mio capo non si sa mai. I miei riverenze mi inchino di fronte a lei. Niente, quindi, è sempre stata latente. Hai fatto la tesina su un sistema Copernicano. Quindi, è quella la parte che più ti interessa dell'astronomia? Come si muovono i pianeti, i sole, nel nostro sistema solare? Cioè, sistemi solari, oppure, qual è una parte che più ti appassiona, possiamo dire? Dunque, beh, in realtà sono tante. E il problema, mi lamento del tempo, perché a me sarebbe piaciuto fare astronomia, però, dovendo dirigere il planetario, mi tocco occuparmi di tutte le beghe amministrative burocratiche che odio, ma vabbè, sono da fare. Tocca fare quello. No, fra le tante cose belle, vabbè, non dico quelle che mi piacerebbe fare, perché sono tante tutte, però non ci riesco. No, fra le tante cose belle, sono un pochino, invece, i problemi di astrofisica, di astronomia, che vengono proposti dall'INAF e dal MIUR nelle Olimpiadi dell'Astronomia. Perché, diciamo così, l'astronomia è sempre il fascino duplice dell'aspetto poetico, così, del mistero del cosmo che ci avvolge e poi, invece, gli aspetti tecnico-scientifici legati ai fenomeni fisici che sono coinvolti nell'astronomia, insomma. E quindi, riuscire... Il primo è molto bello, affascinante, e sicuramente mi appassiona. Però anche riuscire a fare qualche conticino numerico su... Mette silicate e penna, proprio. Esattamente, a me non... Cioè, mi è piaciuto abbastanza. Perché poi si sono scoperte delle cose anche legate alla storia, su come, ad esempio, sono state ridefinite le magnitudini stellari, partendo dall'antica Grecia e cercando di conservare... Posso fare una piccola critica? Allora, quello che ha creato... Le magnitudini in cui siamo, in un certo senso, creato... Quello che per primo ha creato un ordine di scala delle luminosità è stato il parco, sebbene ricordo. Però, diciamo una cosa, poteva anche inventarlo un pochino meglio, perché più la magnitudine diventa negativa, quindi più aumenta, più diventa bassa, possiamo dire, più diventa negativa, quindi più diventa grande nel verso negativo dei numeri, più la mia luminosità è grande. È come legare, il primo è più luminoso, il secondo è meno luminoso... All'inverso, cioè non ho mica capito. È vero, è vero. Trae in inganno. Se poi me l'ha pensato, io mi ricordo il primo anno di astrofisica, mi sono trovato lì, ok, studiamo le magnitudini e facciamo un piccolo ripasso per chi viene dalla fisica, mi si presenta davanti questo sistema invertito. Io mi sono trovato completamente spaesato. Eh, bisogna ragionare come nelle gare. Il primo è più luminoso, il secondo meno luminoso, il terzo meno luminoso, la quarta magnitudine, e così via. Poi siccome c'è uno molto più luminoso del primo, diventa negativo. Esatto, poi si va dall'altra parte perché si trova sempre qualcosa di più luminoso. E quindi, e poi siamo arrivati finalmente a quest'anno, quindi siamo partiti così, diciamo che, quindi ti ispirano i conti in un certo senso, mi stai dicendo questo. Sì, un po', sì, anche gli aspetti quantitativi, giusto perché poter misurare l'universo è sempre una cosa affascinante. Quello sì, direi decisamente sì. No, mi aspettavo qualcosa, tipo, io sono un pochino più appassionato di galassie, nel senso, se qualcuno mi parla di esopianeti, ce ne abbiamo qualche, planetario bellissimi, io dico belli, bellissimi, però nel senso, se dovessi dirmi, ok, mi metto lì di studio, dopo un po' che noia, cioè, devo essere sincero, dopo un po', che noia. Mentre se dovessi parlare di galassie così, mi puoi dare un libro tranquillamente, mi trovi dopo due o tre giorni che ancora me lo sto leggendo, proprio tranquillamente. E beh, il bello dell'astronomia è che ognuno ci trova quello che gli piace, poi c'è chi pensa in piccolo e chi pensa in grande, dalle galassie o dagli ammassi di galassie, adesso, poi ci sono anche quelli peggio di me, cioè, ci sono i cosmologi che proprio sono persi nelle loro variazioni nel cosmo, lì non c'entriamo neanche. E poi, quindi adesso, si entra nella piccola parte di ADV, in piccola un po' di pubblicità, quest'anno, anzi, questa puntata dovrebbe proprio uscire durante i festeggiamenti del 30 più 1, perché quest'anno il planetario fa 30 anni. Quindi, allora, tu sei arrivato, come era messo? Allora, era in questo stato, diciamo, un mezzo di riccato? Sì, era in difficoltà, abbastanza male, nel senso che, insomma, nonostante facesse le attività, diciamo così, le attività che venivano svolte ordinariamente, consentivano a malapena di, proprio dal punto di vista economico, insomma, di bilancio, di mantenere la gestione di questa struttura. E quindi, insomma, c'era un po' la difficoltà. Non ci perdiamo nelle cose tristi, un pochino. Però purtroppo ci sono anche cose. No, lo so, lo so che ci sono. Però tipo la visione di quando sono arrivato io è stata, a parte che, appunto, ti volevo raccontare, io ho mandato una mail, avevo appena finito la triennale, ho mandato una mail e ho detto, vi serve una mano. Cioè, banalmente, mi sono proposto come volontario, aiutante, in realtà non pensavo neanche leggessero la mail, mi ero proprio direttamente cestinata. Invece è stata, la risposta è stata, sì, sì, vieni questa sera, mi ha risposto il giorno dopo, insomma, nel giro di 24 ore, mi fa, vieni e facciamo il colloquio. Perché io mi ricordo questo, tu mi hai detto, facciamo un colloquio. Io, quindi, quella sera, quel pomeriggio lì, mi sono preso Stellarium, mi sono preso vari siti di astrofini, mi sono andato a studiare il cielo di quel mese per capire dove erano posizionate le stelle e avevo una conoscenza pari a zero, cioè, posso destreggiarmi in astrofisica, ma legata all'astronomia si parlano di tutt'altra roba. E quindi ero agitatissimo, invece arrivo qua, mi portano in terrazza, perché è appunto la terrazza dove portiamo le persone dopo la parte in cupola a vedere effettivamente il cielo, qua di Modena, anche se in mezzo alla nebbia e in mezzo a tutte queste cose non è che si veda tantissimo, comunque riusciamo a far vedere pianeti, luna o le principali costellazioni e ce l'avevamo soltanto noi. E dopo mi ha detto, no, no, guarda, vieni qua, facciamo qualcosa e vediamo cosa ti possiamo fare. Quindi la mia avventura al planetario è cominciata proprio così, perfettamente aperta, cioè, a braccio aperto mi avete accolto e questa è una cosa che mi ha sorpreso e mi ha lasciato carta bianca per la mia creatività, infatti siamo qua a far parlare davanti a due microfoni in una stanza buia di sera dopo che siamo stanchi, cosa fa anche la creatività come lato negativo. Ti volevo chiedere, ok, allora, per il trentennale qua abbiamo progettato delle cose che anzi io vi invito voi, voi che ci state ascoltando, andate a vedere sul sito del planetario che cosa abbiamo programmato, perché ci sono degli ospiti micca da poco e c'è un mese pieno di iniziativa del planetario. Vi anticipo solo questo, c'è un rosei, colui che ha scoperto l'acqua su Marte, quindi micca personcine da poco e poi tutto un mese fatto per la scoperta del planetario e dei pianeti e di tutta l'astronomia. Ti volevo chiedere, appunto legato a questi trent'anni o comunque la parte in cui tu sei arrivato, qual è il tuo più bel ricordo qui dentro? Ma ce ne sono tanti, il più bello forse è la squadra di giovani... Quindi recente, insomma, quello recente. Sì, no, insomma, sono tanti. In generale, la squadra di persone che ci dà la pelle qui per portare avanti questa struttura che è un bene comune delle cittadinanze, del territorio modenese, non solo, anche Reggiano, poi si arriva anche Bologna, insomma, in realtà... Ci stiamo espandendo sempre di più, quindi state attenti. È una struttura più interprovinciale che provinciale, quindi insomma, anche le persone che lavorano qui dentro, cioè che lavorano insomma come volontariato o fanno delle attività qua dentro, sono veramente forse la cosa più bella che c'è. Ma anche in generale un po' la risposta e l'affetto che c'è da parte della... la risposta rispetto alle proposte che facciamo come iniziative da parte della gente. Si vede proprio che c'è un interesse e un affetto anche per questa struttura che è veramente interessante. Ricordo invece specifico che è così molto banale perché eravamo appena stati in cupola e insomma c'erano le famiglie che stavano andando nell'aula magna per fare le attività di laboratorio che sono previste di solito dopo l'attività in cupola e insomma c'era una mamma con un bambino per mano che quando hanno svoltato la scala per entrare nell'aula magna ha detto eh come l'università e allora l'ho sentito come una... così un riconoscimento di questa istituzione che insomma non è un'università però può fare delle cose anche interessanti a livello di ricerche e di proposta divulgativa e culturale in generale per la cittadinanza insomma Beh lo potete vedere comunque appunto che stiamo parlando con un presidente quindi c'è un certo un certo livello di parlare un certo livello un registro alto possiamo dire di italiano infatti siete abituati a peggio quindi non vi preoccupate e bene un mio ricordo invece appunto per restare un attimo in tema è stata una delle prime volte cui mi hanno buttato su in terrazza dopo con il telescopio a far vedere a guardare a far vedere alle persone i pianeti stavano guardando Giove mi sembra Giove o Saturno uno dei due c'era questo bambino prima volta che guarda dentro un telescopio proprio wow io ero lì e mi si è sciolto il cuore ma vabbè sei bellissimo vieni qua ti faccio vedere altro come sei stati lì a parlare ma ti voglio chiedere tu prima ho utilizzato una parola appunto come istituzione cioè io la sento molto da quando sono qua dentro anche se non mi adatto perfettamente a quello che potrebbe essere un'istituzione mi è sempre stato detto il planetario è un'istituzione io ti voglio chiedere oltre a questo che poi ti dirò anche la mia idea a te come lo vedi il planetario? beh in realtà per me istituzione è un riconoscimento che vuol dire comprende tantissime cose insomma quindi comunque vabbè è anche un'istituzione come l'ho detto io è un po' partendo da dove eravamo partiti da quando ero piccolo quindi da fare un luogo così dove la scienza possa essere vista studiata amata appassionarci in maniera così come dire appassionante diciamo così la vedevo un po' come una adesso uso un'immagine un po' un faro culturale a 360 gradi quindi anche al di là dell'astronomia anche al di là delle scienze matematiche fisiche perché il bello fra virgolette dell'astronomia cioè del cielo al di là dell'astronomia che lo studia dal punto di vista scientifico è che parla l'uomo in tutti i suoi aspetti quindi c'è un sacco di pittori che hanno fatto quadri tipo Van Gogh esatto adesso stiamo organizzando una mostra d'arte legata appunto agli aspetti del cosmo del cielo e costellazioni con un autore che ha mandato una sua opera sulla stazione spaziale insomma ah è vero sì l'avevo sentita ma al di là di questo anche per dire i poeti gli scrittori insomma c'è veramente tantissima ispirazione legata al cielo quindi usare questo grimaldello dell'astronomia per fare cultura a 360 gradi per cui un po' il sogno sarebbe questo che si concilia con anche gli aspetti istituzionali però in realtà diciamo così va anche al di là della mission un po' circoscritta all'astronomia tipica dei planetari insomma adesso perché poi è a parte che adesso ti do anche la mia risposta nel senso per me il planetario oltre che istituzione è stato trampolino e la vedo molto come una fucina una fucina di cervelli nel senso abbiamo hai tirato hai tirato dentro è un pochino brutto da dire nel senso hai dato la possibilità a me altri 3-4 ragazzi di venire qui anche se stiamo proseguendo gli studi c'è chi sta facendo che sia astrobiologia sta facendo biotecnologie un altro ragazzo che invece si sta per laureare io che invece sto andando avanti con i miei studi e quello che mi è stato dato è una cosa bellissima perché mi ha dato la possibilità di dire ok ti prendi un progetto te lo fai te lo segui ovviamente tipo questo qua del podcast te lo porti avanti vediamo come va però hai pieno controllo su quello cioè secondo me questo in mettiamola in Italia mi sembra molto una banalità da dire però ha un ragazzo che non ha esperienza che se la vuole fare che si è non laureato quindi proprio diciamo a livello di divulgazione vuole c'è soltanto da imparare cioè al massimo posso scriverti qualche equazione o cantarti una canzone come direbbe qualcun altro e quello che mi è stato dato è proprio la possibilità di mettermi qui parlare davanti a un microfono di qualcosa che mi piace di qualcosa come l'astronomia che veramente dà soltanto spunti per la conversazione e giovane cioè senza tra virgolette senza la supervisione di qualcuno e lasciando libero spazio alla creatività questo veramente complimenti perché a me no mi sta piacendo tantissimo spero anche voi mettete mi piace lasciate like venite a seguirci a planetario un piccolo altro adivine farò un altro prima della fine della puntata vedi si fa anche così un po' di di pubblicità e quindi la vedo molto così cioè oltre che istituzione oltre che qualcosa che venga riconosciuto mettiamola dalla città di Modena anche se Modena purtroppo brutto da dire ma è quella che ci riconosce meno è bello per questo c'è proprio la possibilità di sperimentare metodi per riuscire a divulgare infatti centro sperimentale per la scienza CES della scienza e dell'astronomia didattica dell'astronomia ok scusate non ero pronto è molto bello per questo cioè io sto sperimentando adesso con un podcast quindi veramente bello io la vedo molto come una fucina questo planetario sì sì anch'io in questo senso lo vedo come spazio per poter come dire provare a realizzare i propri interessi i propri sogni le proprie passioni in questo ambito specifico qui poi insomma è chiaro che bisogna un pochino anche parlarsi per capire se un progetto perché c'è chi vuole costruire un'astronave forse meglio e poi ci sono anche i problemi sempre delle risorse ma quello che si riesce a fare veramente se questo fosse uno spazio dove appunto i cervelli elementi brillanti si incontrano diventano amici e si crea una community diciamo così una community che può così darsi una mano e aiutare anche la cittadinanza o gli studenti particolari perché poi la mission del CES è particolare giovani vogliamo gente forte che vuol venire qui appunto anzi viene da dire se abbiamo dei libri una bella biblioteca una bellissima emoroteca con anche delle riviste aggiornate che praticamente non legge quasi nessuno diciamo nessuno ho visto sul nuovo numero delle scienze tipo un articolo bello articolo nuovo quindi uscirà a novembre sul no sul numero di novembre perché mi arriva non so perché mi è arrivato in anticipo un articolo sul telescopio James Webb che sta per partire quindi bellissimo infatti me lo sto mi sono preso rubato però diciamo così le scienze hanno un taglio abbastanza divulgativo abbiamo anche proprio delle riviste specializzate quindi anche in inglese che un po' cioè ma veramente non so in quanti altri possono trovarle però continuiamo anche a pagare gli abbonamenti perché insomma se qualcuno venisse qui a sfruttare visto che non c'è l'università non c'è astronomia a Modena di Bologna potremmo venire qui da noi a Bologna non so quanto gli vengono effettivamente però sì possono no no quelli di Modena che vanno a Bologna intendo anziché è una piccola critica ma dicevo che a Bologna non c'è il planetario a Modena sì a Bologna c'è l'università di astronomia a Modena no quindi potrebbe essere anche un mix esattamente una sinergia ah giusto una cosa perché mi è venuta in mente che me l'hanno già chiesto io sono qua da un annetto e mezzo e già circa una ventina di persone me l'hanno chiesta quante volte hai sentito chiederti la differenza tra planetario e osservatorio ma diciamo così spieghiamo un attimo quali sono cosa sono questi due ambienti e qual è la differenza tra questi due cioè la domanda specifica in realtà me l'hanno posta poche volte molte volte la gente però confondeva l'una con l'altra e veniva al planetario pensando di di essere in un osservatorio allora bisogna spiegare la differenza insomma che il planetario riproduce artificialmente quello che si vedrebbe a occhio nudo sulla volta celeste come adesso facendo indutti confronto indutti paragoni come se fossero al cinema e quindi è bello che si può anche se c'è nuvolo se piove se c'è la neve si possono vedere perché si è al chiuso invece c'è un osservatorio ovviamente osserva il cielo vero a noi abbiamo un piccolo osservatorio sulla terrazza ma in una città chiamare l'osservatorio credo allora diciamo abbiamo un osservatorio solare ok siamo adesso abbiamo dei telescopi che andiamo con cui andiamo su in terrazza comunque è buono molto buono si riesce a vedere tranquillamente ovviamente non è paragonabile se vogliamo tipo al telescopio di Scandiano se proprio dobbiamo paragonare sì no abbiamo dei telescopi non proprio amatoriali ma neanche professionali insomma però soprattutto il problema è che dalla città si vede quel che si riesce a vedere cioè poco poi siamo famosi per la nebbia quindi non potete aspettarvi qualcosa di eccezionale insomma non è proprio come se vi trovasse sul Monte Bianco mettiamola così a livello di cielo invece guardando il planetario è come se fossimo sul Monte Bianco però in realtà non è quello vero che si sta osservando ma quello riprodotto con un proiettore che appunto riproduce quello che si vedrebbe occhi nudo la cosa bella però è anche complessa di questo strumento è che appunto riproduce tutti i moti non solo quello delle stelle che è abbastanza facile fra virgolette ma anche quello dei pianeti con i moti retrogradi compresi quindi cose abbastanza complicate anche che però sono quello che effettivamente si vedrebbe nel cielo reale insomma se fossimo appunto su Monte Bianco in una nota limpida e appunto senza nuvole no infatti è molto bello perché a parte che prima volta se non siete mai entrati in un planetario subito cioè dovete andate in questo momento fermate di ascoltare la puntata andate in un planetario per favore la seconda cosa è che te ti trovi davanti a un cielo a cui non sei abituato cioè io non ero per niente abituato a quel cielo anche se vivo in campagna quindi un pochino meglio di Modena se così vogliamo penso al massimo si riescono a vedere un centinaio di stelle proprio stando all'archi ti trovi al planetario in cui hai la riproduzione di questo cielo praticamente limpido veramente ti trovi davanti 3.000 3.500 stelle con riprodotta la volta celeste e te sei immerso in questa stanza buia e ti trovi tutte le stelle sopra mi ricordo ovviamente da brevi di la prima volta in cui sono entrato poi ovviamente c'è il contrapposto dell'osservazione che poi vai a vedere effettivamente le stelle com'è osservare poi nel reale andiamo quando si va in terrazza però è quella lì la differenza principale proprio vedi vieni messo davanti a come vedevano gli antichi se così vogliamo dire e come invece vediamo un pochino oggi un pochino peggio però è bello anche soltanto riuscire a destreggiarsi in tutte quelle stelle perché non è un gioco da pochi infatti poi mica tanto antichi anche i nostri nonni o bisnonni quando lavoravano in campagna vedevano questi mettiamo che con la rivoluzione industriale un pochino di smog ci è venuto mettiamola dai comunque anche Doado ha detto una cosa giusta anche delle altre grazie che ha detto in una stanza buia perché il planetario di Modena è il più grande dell'Emilia Romagna uno dei più grandi d'Italia diciamo così ma la caratteristica che ha unica non è il più grande perché c'è Milano Torino che sono un po' più grandi ma la caratteristica unica che ha è il buio proprio perché la cupola di alluminio traforato che è una cupola americana consente proprio di avere un buio tale per cui se uno si mette la mano davanti alla faccia non la vede mentre invece negli altri planetari anche ad esempio quello di Milano che è più grande però avendo la cupola in muratura c'è un riflesso un riverbero per cui si vede sempre un pochino la sala e uno invece lì sembra proprio di essere sospesi nel cosmo esatto e vedere un cielo in cui che ti avvolge completamente insomma quindi ovviamente è un effetto gli americano chiamano il wow effect praticamente perché se ne sentono effettivamente se ne sentono quando compaiono le stelle c'è proprio questo stupore che è bello molto molto bello e prima abbiamo affrontato come discorso anche appunto i vantaggi dell'astronomia perché tu mi hai parlato che il planetario ha come sogno infatti una cosa che io condivido molto quella di far diventare il planetario non soltanto una cosa legata all'astronomia e in qualche modo ci sto provando anche in questa seconda stagione ma aperto alle scienze cioè nel suo partendo dall'astronomia tutto quello che ci è collegato che in realtà quasi tutte le scienze sono collegate e ti volevo chiedere ad esempio basti pensare che Galileo ha fondato il metodo scientifico studiando i moti di Giove e i moti della luna intorno alla terra quindi non stiamo parlando proprio di una materia secondaria poi può essere diventata secondaria negli anni poi è stata sottomessa la fisica ma diciamo che è nata come scienza primaria sì sì dall'astronomia un po' alle madri di tutte le scienze studiando il cosmo anche per ragioni pratiche dell'agricoltura proprio da quello da lì sono derivate poi tutte le scienze che insomma che poi oggi studiamo anzi poi insomma oggi in ambito astronomico si studia chimica biologia c'è anche scienze che uno potrebbe anche pensare che non centrali sono più di tanto invece oltre alla fisica e all'astrofisica e così via la meteorologia adesso si studia anche la meteorologia del sistema solare insomma quindi tante cose che veramente anche stando in un ambito molto circoscritto vicino all'astronomia è estremamente variegato poi ripete o come dicevamo prima insomma in realtà l'astronomia parla poi al cuore e quindi all'animo umano per cui non c'è veramente confine ecco esatto secondo te perché allora studiamo il cielo cioè perché ancora ancora adesso secondo te perché studiamo il cielo questa è una domanda da 100 milioni ma sostanzialmente è un po' forse come dire un l'uomo che ricerca se stesso la sua posizione nel cosmo un po' il senso del suo esistere e in questo in questa ricerca siamo un po' tutti accomunati infatti anche quando gli astronauti guardano la terra insomma si rendono conto come tanti problemi sarebbe veramente da risolvere ad alto livello cioè nel senso che ci si perde dietro delle minuzie quando invece in realtà siamo tutti sulla stessa barca che è un granellino di sabbia nel grande mare del cosmo insomma sì infatti una cosa molto bella o brutta secondo di come la si prende è che ti ridimensiona ti ridimensiona tantissimo e ti fa aprire veramente gli occhi di fronte a tutto quello che ci troviamo tutto quello che abbiamo davanti in questo momento cioè molte volte è stata anche un'azione catatica ammetto per me perché proprio davanti a un problema che mi sembrava così grande mi sentivo un attimo sopraffatto mi sono detto ok aspetta piano a parte che mi piaceva quindi ho preso il mio telescopio sono andato fuori in giardino era notte mi sono messo un po' a guardare le stelle e davanti a tutto quello lì mi sono detto ok un modo ce la facciamo per saltarci fuori un modo ce la faremo non preoccupiamoci prendiamo un respiro guardiamo le stelle e poi andiamo avanti però ti ho fatto questa domanda anche perché molte volte cioè anche soltanto nella mia carriera breve adesso ancora all'inizio ancora sono in comune peraltro già brillante beh eh sì è ovvio si è in piedi partiamo per così non credetegli ovviamente per favore nella mia carriera sia dei miei amici anche i miei genitori o perché capisco perfettamente o comunque persone con cui parlavo mi sono sempre posto la domanda e me la ponevano anche loro se non me la ponevo io se avessi fatto la scelta giusta ovvero ok è una materia che mi piace ma io da questa ci posso tirare fuori una carriera perché comunque stiamo parlando di una materia che tratta di ricerca cioè ha degli dei risvolti pratici e più vado avanti più mi rendo conto che sì anzi la maggior parte delle tecnologie a di adesso permettono di essere qua o comunque permettono di essere sfruttate grazie proprio all'astronomia te cosa ne pensi invece di questo? beh è sempre una questione abbastanza dibattuta quella del fatto di fare investimenti su un campo che come dire sul momento sembra non avere un grosso ritorno tralasciando che è infinitamente inferiore alle spese militari che vabbè molto dell'astronomia deve proprio alle spese militari no cioè è anche stimato come di fatto sembrano grandi cifre ma in realtà cioè proporzionalmente era veramente una cosa di risolvere mi sembra che la missione Apollo sarebbe costata un dollaro ad ogni americano per dire per riuscire a spedire poco comunque c'è quindi insomma e le ricadute sono veramente notevolissime nel senso che insomma dal punto di vista della tecnologia dello sviluppo tecnologico e delle intuizioni scientifiche anche se per dire insomma certi ambiti diciamo così producono risultati un po' a lungo termine perché ad esempio anche per dire solo la relatività che ha cominciato ad avere le sue conferme a livello sperimentale osservando appunto anche il cosmo insomma non è che sia venuto immediatamente c'è voluto un po' di tempo però insomma sicuramente il cosmo unisce il molto grande e il molto piccolo e quindi hai detto bene proprio la relatività ci permette di utilizzare uno strumento senza il quale io non riuscirei ad andare a Bologna perché non sapevo la strada cioè Google Maps contiene nel suo algoritmo delle correzioni dovute proprio alla relatività generale e questo è soltanto uno anche le fotocamere digitali poi anche questo questa qua l'ho scoperta grazie a un corso di alte energie le fotocamere digitali utilizzano lo stesso sistema che è stato utilizzato la prima volta per un telescopio ad alte energie che ha un sistema chiamato CCD CCD che permetteva appunto la digitalizzazione delle immagini che arrivavano quindi ci si è ispirati a quello poi per utilizzarlo a livello quotidiano e cioè questi qua sono soltanto due esempi che pensandoci noi ce l'abbiamo nel nostro telefono lo utilizziamo quotidianamente ed è tutto nato grazie perché noi volevamo andare a vedere più lontano o vedere meglio un'immagine una galassia lontana una supernova o un oggetto estremamente particolare dell'universo questo veramente quando me lo chiedono gli comincia a presentare un po' di di fatti un po' di strumenti che sono nati grazie all'astronomia e quindi dicono ok dai cominciano un pochino a cambiare idea rispetto alla quotidianità però sì diciamo che allora innanzitutto un po' lo vedo come un salto di fede cioè io il mio l'ho visto un po' mi sono detto ok ci sono un tot di risvolti pratici mi dà degli strumenti come la fisica mi dà degli strumenti per poter andare nell'ambito lavorativo perché poi alla fine si arriva poi a quello e però dall'altra parte c'è comunque la paura perché tu stai comunque gareggiando cominci a gareggiare adesso gareggiare per modo di dire però il mondo della ricerca è comunque il mondo del lavoro se vogliamo fatto più piccolo perché poi siamo in quattro gatti però tu gareggi devi portare dei risultati con gente di tutto il mondo e quindi un pochino un po' di ansia la prestazione c'è quella lì c'è molto però diciamo che è più il ritorno poter parlare di una cosa che mi piace di una cosa che mi appassiona appunto come l'astronomia che mi permette di andare avanti cioè questo semplicemente anche soltanto questo podcast per me è manna dal cielo se no sarei zettito dai miei amici ogni serata al bar che mi dicono per favore ti prego basta non parlare più di queste cose mai avuto appunto una situazione in cui eri perso a parlare di un argomento legato all'astronomia così e ti hanno detto guarda stiamo parlando di tutt'altro qui ma questo momento non mi viene in mente perché sì poi cioè gli aspetti legati all'astronomia li tratto quando sono però delle volte ad esempio ai miei studenti ho fatto fare un po' dovevano fare le stampanti 3D voglio fargli fare le costellazioni allora le ho costrette imparassi a usare Stellarium però alla fine è stato poi abbastanza accolto perché alla fine l'astronomia insomma piace quindi trattata a livello giusto non ha controindicazioni diciamo così non mi è mai successo poi non vado spesso al bar quindi non mi hanno zittito è stato qualche volta che proprio è successo eravamo lì stavamo parlando uno un ragazzo che aveva appena conosciuto nel nostro gruppo mi fa e te cosa fai esco con faccio astrofisica e i miei amici dicono no no ti prego cioè veramente basta ne abbiamo già abbastanza di questo e quindi questo luogo mi permette un attimo di esprimermi mettiamola anche così però dai mi è piaciuto comunque quello che mi hai detto un po' sull'astronomia mi ha un attimo rincuorato mettiamola così adesso come siamo ormai arrivati alla fine qua siamo già 30 36 40 minuti ti volevo chiedere andando proprio saltando di palo in frasca lo strumento che preferisci al planetario oltre il planetario oppure se mi dici il tornio perché abbiamo un'officina e mi dici il tornio un attimo era proprio quello visto che non posso dirlo quello ti prego no mi scegnerò un altro ma no ce ne sono strumenti carini anche che insomma sono anche un po' originali insomma c'è l'eliofanometro poi c'è ecco adesso cominciano le parole qua inventate andiamo avanti l'eliofanometro aspetta ok io non so cosa sia l'eliofanometro cos'è l'eliofanometro ma è una cosa molto semplice è una sfera di cristallo che predice il futuro ottimo quindi siamo passati l'astronomia a astrologia così in un attimo no in realtà è una sfera di cristallo molto semplice però è un supporto e il sole attraversando molto semplice come strumento in realtà ce ne abbiamo anche di quelli più complicati come la sfera luminosa perché poi fa così ma certe volte quando parliamo siamo lì anche durante le riunioni o mentre gli parlo dei miei progetti e esce va negli armadi comincia a tirare fuori questi strumenti ma antichissimi delicatissimi tutte cose esce mi comincia a spiegare queste cose che io non ho mai visto ma cos'è questo ma sì perché il bello del CES soprattutto agli inizi come dice poi il nome stesso dell'associazione del centro era legato proprio alla ricerca didattica e la ricerca didattica in ambito scientifico è particolarmente supportata quando uno riesce a capire un fenomeno costruendo uno strumento che lo misura e quindi in questo modo capisce il problema come è fatto il fenomeno fisico che sta studiando e lo strumento che misura questo fenomeno diventa anche un modo per capire il fenomeno stesso e allora c'è tutta una serie di strumenti come appunto il notturlab i sestanti le bocce di vetro con l'acqua dentro per capire l'orizzonte tutta una serie di cose molto carine tra queste l'eliofanometro che è lì che alleggia un elemento misterioso è una cosa molto semplice è una sfera proprio una sfera di vetro di cristallo per fare un po' di astrologia ma questa sfera qui praticamente quando viene colpita dai raggi solari li fa convergere in un punto e c'è una carta chimica nella parte retrostante che viene bruciata molto semplicemente solo che usando questo strumento che è veramente molto semplice quindi alla fine non c'è bisogno di essere alimentato non c'è bit byte un micoprocessore un micocontrollore a bordo però io si riesce a capire quant'è il tempo di irraggiamento della terra quando ci sono le nuvole non ci sono le nuvole vedere in base all'intensità delle bruciature anche l'intensità luminosa che c'è l'energia termica che arrivava attraverso i raggi solari sulla terra e quali erano praticamente in base anche alla durata delle stagioni i periodi di insolazione sulla terra con uno strumentino veramente molto semplice poi queste striscioline bruciate di carta che prendessero fuoco però insomma è una carta particolare che praticamente veniva lasciato un segno di bruciatura come però non è che la carta prendesse fuoco anche se no sarebbe un po' tragico si potevano confrontare una collata e poi insomma ce ne sono tanti strumenti ma questo qua mi è venuto in meta anche per il nome insomma perché siamo di fianco al laboratorio di ottica quindi ti è venuto in mente degli fanometri sì penso ecco l'hai visto adesso ok perfetto e niente invece io prima ho utilizzato ho fatto appunto no sono sotto sì esatto sono sotto ho imparato della polarizzazione perché anche lì c'è polarizzazione della luce bellissimo tu ho fatto dei giochini prima cioè mi sono più divertito io che i ragazzi che non fanno a fare laboratorio che è mai poveretti che mi hanno dovuto sopportare e allora siamo arrivati alla fine di questa puntata vuoi salutare vuoi dire qualcos'altro ti è venuto in mente qualcosa di cui vorresti parlare come ultima domanda cioè io nel senso che le cose da dire sarebbero tendenti all'infinito nel senso che io allora te la faccio io una domanda come ci si sente essere a capo presidente un magnifico direttore di questo posto non so di chi parli comunque no è una bella responsabilità è anche impegnativa ma non c'è l'idea del capo non c'è insomma siamo a livello come dire tutti pari una squadra che tira diciamo così il primus interpars se proprio vogliamo il capitano di una squadra che gioca tutti insieme qualche reminiscenza del liceo ce l'ho ancora niente quindi insomma è un servizio che viene reso alla cittadinanza che penso sia anche gradito perché poi adesso abbiamo tralasciato tante cose all'omeo di capomiriggio spesso vengono le famiglie con i bambini che passano un pomeriggio insieme che diventa un modo anche per scoprire le relazioni familiari facendo qualcosa insieme di interessante dove casomai gli adulti fanno finta di sapere ma in realtà imparano anche loro io mi ricordo bellissimo l'altra domenica ero a fare laboratorio a un certo punto hanno lasciato proprio il bambino sono venuti dove c'ero io mi hanno cominciato a chiedere ma ok noi abbiamo costruito questo perché è un specie di laboratorietto e questo che cos'è ma cosa mi porta cosa andiamo a vedere quindi mi sono messo a fare una lezione proprio è partita anzi i bambini che a un certo punto volevano anche andare a casa perché e i genitori lì a guardare a fare domande bellissimo quello molto bello infatti niente quindi c'è una bella responsabilità ma dà anche poi soddisfazioni e così apre incredibilmente la possibilità di entrare in contatto con molti che non avrei mai pensato ad esempio quello dell'arte che dicevamo prima ma anche altri come quello del teatro che adesso stiamo ospitando anche una compagnia teatrale giù effettivamente adesso stasera debutta col suo primo spettacolo insomma e quindi c'è anche una così come dire una contaminazione reciproca fra mondi diversi che è veramente molto come poi va avanti da 3-4 mila anni da sempre l'arte ci ci dà spunti e noi diamo spunti all'arte poi quello molto bello benissimo allora io ti ringrazio per essere stato ospite in questa trasmissione e io adesso arrivo faccio i saluti prima saluto lui poi vengo a salutare voi ok anche oggi noi abbiamo finito benissimo io vi invito ovviamente a mettere mi piace seguirci sui nostri canali social e vedere quali sono le iniziative del planetario noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata non mi ricordo se è la puntata che riesco a fare finalmente io me la sto comunque studiando oppure se è un'altra intervista spero che vi stiano piacendo fatemi avere un feedback e noi ci vediamo la settimana prossima ciao ciao